Padre Graziano colpevole o d'innocente, a stabilirlo sarà la Corte d'Assise di Arezzo composta da otto giudici, quattro uomini e quattro donne e due giudici togati e sei popolari presieduta da Silverio e Tafuro. È attesa per lunedì 24 ottobre la sentenza nel processo religioso congolese accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia e dell'occultamento della soppressione del suo cadavere. Il PM Marco Dioni aveva richiesto una condanna a 27 anni al termine di una requisitoria fiume. I legali del religioso dopo otto ore di arringa difensiva avevano invece chiesto l'assoluzione del frate perché il fatto non sussiste ed in subordine l'imputato non avrebbe commesso il fatto. Lunedì sarà il turno delle repliche della pubblica accusa e delle parti civili e delle controrrepliche della difesa. Il verdetto è teso per la serata di lunedì 24 ottobre, giorno in cui la casalinga di Caraffello, scomparsa il 1 maggio 2014, avrebbe compiuto 52 anni.